Quando c'è un portiere come questo che si fa leggere perfettamente dove è il giorno l'uomo libero, come si muove Barella e Cianaloglu e poi sempre puntano con l'attaccante, fanno la sponda benissimo, ti girano il gioco, è molto molto difficile. Senza questo portiere sarebbe un po' più facile, ma questo portiere è molto molto difficile, poi fisicamente sono forti. Senz'altro la squadra italiana è arrivata tre finali della comprensione europea e noi per caso. Una parola solo per Inzaghi? Un incitamento? Io vorrei soltanto dire che quello che sento, lo abbiamo sentito noi due anni fa e deve pensare che è la seconda squadra più forte dell'Europa e quando una squadra è la seconda squadra più forte dell'Europa è che è una grandissima squadra e ci torneranno, quindi il sport è fatto così, avete vinto, avete a volte perduto.